musica musica no 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 deve essere più io sono un cagnolino non sono un lupo deve essere più è un cane rabbioso quello così vedi perchè mi hai portato di nuovo qua perchè oggi siamo tornati lupi mannari e la trasformazione presto si trasformerà ancora nel lupo più forte del mondo la trasformazione si trasforma la trasformazione si trasforma bravo bravo ho messo la iper rabbia io sono rabbioso sono un cane rabbioso hai visto? no sono diventato super forte non è successo niente no 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 mi fai parlare? c'è troppa gente qui no 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 non fare così guarda che ora ti attaccano allora visto che siamo nomadi dobbiamo diventare dei lupi sedentari ok? ok e ci serve che significa che ci serve una casina guarda tutti i materiali per costruire la casa dei lupi mannari ah quindi siamo dei lupi architetti siamo dei lupi architetti bravo sai cosa? cosa? ci penso io come ci pensi tu? io so già esattamente come farlo sai perché? ma che cosa? come è possibile? perché sono il migliore tra tutti i lupi guarda iniziamo dalla bocca mio caro ok sono veramente curioso eh guarda guarda facciamo una bella bocca di quelle larghe ah questa è la bocca quindi si qua ci saranno i canini forti e lupesti sta arrivando il giorno scotta un pochettino no aspetta c'è un problema un piccolo problema logistico ma cosa? già non sai fare la casa? eh perché l'ho fatta dentro la cesta c'è la tua stupida cesta in mezzo ah ok ti posso aiutare quindi? facciamolo un po' lontano sì hai capito come si fa? ok quindi hai detto così del resto tra me e te chi è il costruttore? io sono il lupo no 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 facciamolo da un'altra parte ma dai ma avevo iniziato facciamolo da un'altra parte ma che questa festa che sei di qua di qua di qua ok vai facciamola qua alla casa allora molto semplice no? eh sono tornato umano cosa? sono tornato umano vabbè costruiamola è meglio meglio così possiamo siamo intelligenti come gli umani no? ah perché i lupi sono stupidi vuoi dire? beh perché non lo sai? sarà meglio non dirlo quando torno lupo mannaro eh eh esatto perché se no mi mangi guarda questa sarà la bocca vedi? ok bella molto bella quindi qua ci faremo i dentoni ah aspetta se non sbaglio là ci sono delle ossa no? sì possiamo utilizzarle come denti oh fantastico lo sai che i lupi hanno dei denti molto forti dei carimoni ah ho capito quindi questa è una bocca è una casa fatta a lupo quindi sì voglio fare ah perché tu cosa volevi fare? no 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 va benissimo va benissimo è bello no? è molto bella questa casa aspetta ci sono anche dei tipi di bianco diverso ma questi questi sono più realistici però loro hai presente i denti dei lupi? son un po' cariati ecco i denti cariati dei lupi dovrebbero andare dal dentista? eh quindi dovrebbero andare dal dentista effettivamente però non ci fanno mai Guarda qua vedi Ok quindi questa è la parte bassa Io sai che cosa faccio qua sotto La lingua Faccio la lingua del lupo Quindi tipo un tappeto rosso Un tappeto rosso bravissimo Perché ho tolto tutto aspetta L'ho fatto i denti Ok mi piace veramente tanto Questo lupo per ora Sei stato veramente bravo Te l'ho detto che i lupi sono degli architetti fenomenali Io che cavolo ne sapevo Io pensavo che i lupi sapessero solo Manzare le proprie prede Siamo bravissimi e fortissimi a costruire Sì ma qua mancano dei denti però Che cavolo Vabbè ho capito deve andare dal dentisto Però guarda che boccaccia che gli ho fatto Che canino Allora questa qua guarda è tipo la peluria La peluria Questa è la peluria con la marroncina No bellissimo E adesso sai cosa faccio E quindi noi viviamo qua dentro dopo Sì tecnicamente dovremmo certo Aspetta ora ti faccio vedere Faccio un po' il dentro Io voglio fare le orecchie Perché le orecchie secondo me Il lupo mannaro sono la cosa più bella Le orecchie sono belle secondo me Sì si vogliono Sto facendo l'entrata io intanto L'entrata? L'entrata qua Sì meglio della casa Mi sto dimenticando che è una casa Dobbiamo pur viversi qua dentro no? Sennò dove viviamo noi È giusto Abbiamo bisogno di una casa anche noi Anche noi Fa sentire il tuo verso? Sei migliorato? No ancora no E ancora dobbiamo lavorarci meglio Guarda adesso facciamo qui tipo Devo dire Devo dire Devo dire Sai che cosa? No Non ne ho idea La trasformazione da lupo Ti ha fatto diventare più bravo a costruire Beh è ovvio Non pensavo Te l'ho detto Siamo degli architetti meravigliosi Oh guarda per gli occhi C'ho questi blocchi Dimmi dopo dove vuoi fare gli occhi Vuoi fare tipo gli occhi pazzi? Sì gli occhi pazzi Ma sei sicuro? Sì 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 fidati Poi fanno paura Ah è giusto No no non fanno paura Guarda che orecchie fantastici Voglio salire Voglio salire anch'io lì Aspetta E sali E sali Eccomi Guarda che orecchie Gli occhi dove Eh vabbè Gli occhi qua Gli occhi dove li facciamo? Qui Guarda ho preso il bianco E poi ci mettiamo il rosso Ci penso io Ci penso io Vuoi vedere? Vai Occhi da pazzo E metti questo Aspetta Uh fermo E questo Vabbè vabbè Vediamo Ecco bravo Vai No però dentro Qua Dentro? Lo vuoi fare Come lo vuoi fare? Dentro qua? Sì Ok va bene Vai mettilo ancora un altro Facciamolo doppio Così Così sembra proprio pazzo È pazzo scatenato No forse solo uno Se ne vuole solo uno Perché Secondo me è bello Eh ma dopo c'è quella spirale Non so sembra pazzo Psicopatico Eh giusto Cos'è che stai facendo? Ti ricordo che sono un lupo Il pazzo psicopatico Attaccatelo lupi Ma che cosa pensi di fare? Anche io Attaccatelo Attaccatelo Come osi I miei lupi sono più forti Dei tuoi lupi I miei lupi Non mi far arrabbiare Che mi trasformo Calmi lupetti Perché sei nabbo Te lo dico io Non credo sia la motivazione giusta Dai finiamo questa casa Mi devi aiutare in questa casa Ma perché mi sento così arrabbiato? Mi devi aiutare Non mi stai aiutando La trasformazione Si è trasformata? Sì ciao Ma come avevi detto che è dall'ultima luna Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Dobbiamo coprirci Ah brucia il sole Brucia Brucia Dobbiamo fare Ah Il caltetto Ma perché non l'hai messo? Sei proprio un lupazzo Io stavo facendo tutti i dettagli belli Ma guarda un po' È molto bello È veramente Ecco Non sono più arrabbiato Te l'avevo detto Dobbiamo fare la casa Perché quando viene il giorno Non siamo più lupi mannari Esatto Io adesso faccio il pavimento E mettiamo anche un letto Perché non voglio più essere un lupo mannaro Sì infatti No no Che cosa scusa Voglio poter dormire la notte In santa pace E fare dei tre sogni Ma è bello essere lupi Dai ti piace No non è così bello Dai No sì che ti piace Guarda che casa che abbiamo fatto C'è un lupo pazzo La casa è bellissima La casa è bellissima Sono stato veramente bravo Ma se ho fatto tutto io questa volta Ma qui mancano i denti Ma cos'è un lupo sdentato? Neanche sa mettere i denti Ma beh Non lo fai tu d'ora in poi No no scherzavo Scherzavo No 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 vai Ok un po' di denti Guarda che carini Guarda anche le orecchie Ma qui nemmeno li hai messi Cioè io boh Con chi sto lavorando Hai finito di lamentarti? Con chi sto lavorando qui Eh? Con i pochi blocchi che ho a disposizione Ho fatto il possibile Un lupo scansa fatiche Lo dico io Cosa sei ecco Un lupo sdentato No no Te sei un lupo scansa fatiche Tu sei un lupo sdentato Per un lupo è l'offesa peggiore Un lupo sdentato? Come osi? Prova a ridirlo Lupo sdentato Perché adesso c'è il giorno Se no ti facevo vedere io Ma cosa? Sanno tutti che io sono il lupo più potente Adesso vediamo appena torna la notte Spacco in due Mamma mia comunque quanto è bella questa casa È bellissima Sono stato bravissimo È casa mia Ah ecco una cosa Visto che sono io il capo dei lupi Vattene Fattene un'altra tutta tua Ok? No L'ho costruita io È casa mia Facciamo così allora Eh Facciamo così Per decidere No 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 Ah eh Facciamo così Per decidere di chi sarà La casa Dobbiamo portare Della carne Umane Chi prende più carne Chi tiene la casa Chi prende più carne Durante la notte Torna Qua E la casa è sua Ok? Mi piace Mi piace caro pollo Ok aspetta Come mi hai chiamato? Posso prendere anche un pollo? Perché non sono più un lupo Non fai paura a nessuno È giorno Ok aspettiamo la notte E chi vincerà si prenderà questa fantastica casa Bellissima Troppo bella Umane Carne fresca Chi prende più cuore la casa è sua Oh ma sono lupi Sono lupi come noi Vogliono la casa Kendall vogliono la casa Come si permettono Me la faccio Combatti Vogliono la casa Kendall Vogliono la nostra casa Non si preoccupare Ma chi sei tu di questi? Sono quello che picchia gli altri Ecco Non mi picchiarmi Non picchiarmi Sto morendo Dentro la casa Dentro la casa lupo Kedal Prendetemela Vieni dentro la casa lupo No lo scappo No 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 Vieni qua dentro La stanno per conquistare Andatevene via lupacci Kedal Ok quindi la casa è mia La casa è mia Oh mio dio sono circondato Ragazzi Questa casa è diventata mia Perché sono Il lupo più coraggioso Dove cavolo è andato Quell'altro Kedal Ma guardate Mi ha lasciato qua dentro E io sono invaso Da questi maledetti Finti lupi Ragazzi Per questo video è tutto Fateci sapere Se volete un altro video E ciao 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 Ciao